Articolo di Piero Giunta. Arcobaleno 1, polisportiva futura 7. Dunque i calabresi espugnano il palatricomi di Rosolini e allungano sull'arcobaleno. Diciamo subito che il risultato è bugiardo e non rispecchia il gioco che le due squadre hanno espresso in campo. Parte forte la squadra espicesi e al terzo minuto va in vantaggio con Davide Di Benedetto che dalla sinistra tira forte e piega le mani al portiere calabrese. Sembra che la gara si metta nel verso giusto per gli spicesi che nel primo quarto d'ora esprimono qualità nei fraseggi e si trovano a memoria. La polisportiva futura subisce il predominio ispicesi fino al sedicesimo quando Everton trova il gol del pareggio. A questo punto cambia la partita. La polisportiva trova nell'asso di un minuto due gol sempre con Everton e chiude il primo tempo in vantaggio per 3-1. Nella seconda metà di gioco l'arcobaleno pressa in cerca del secondo gol che non arriva ed invece al settimo c'è il quarto gol dei calabresi con Cividini che stronca le speranze degli spicesi. L'arcobaleno inserisce il portiere di movimento ma è tutto inutile. I calabresi allungano nel finale con altri tre gol di Cividini ed Everton ed espugnano il palatricomi consolidando il secondo posto in classifica.